Ogni settimana pubblichiamo nuovi audiolibri. Iscriviti al canale, attiva le notifiche e condividi il nostro canale con i tuoi amici. Questo libro è dedicato a un uomo che non ha bisogno di leggerlo. Lowell Thomas. Come è stato scritto questo libro e perché? Come è stato scritto questo libro e perché? 156esima strada a ovest in compagnia di una tribù di scarafaggi. Mi ricordo ancora come se fosse ieri che tenevo delle cravate appese al muro. Ogni volta che andavo a prenderne una, vedevo gli scarafaggi schizzar via da tutte le parti. Non mi andava giù di essere costretto a mangiare in ristoranti sudici e modesti che con ogni probabilità offrivano alloggio a colonie di scarafaggi numerose e vitali quanto quelle che infestavano la mia stanzetta. Ogni sera me ne tornavo a casa con un mal di testa tremendo, un misto di delusione, preoccupazione, amarezza, ribellione. Mi ribellavo più che altro alla cruda realtà. I sogni che avevo amorosamente nutrito ai tempi del college erano diventati un incubo. Che razza di vita era quella? Dove era andata a finire la grande avventura che aspettavo con ansia? Tutta lì l'esistenza che il destino mi avrebbe riservato? Un lavoro che detestavo? Una forzata convivenza con una legione di scarafaggi? La frequentazione di trattorie di infimo ordine? E nessuna speranza per il futuro? Mi sarebbe tanto piaciuto poter leggere e scrivere i libri dei quali fantasticavo di essere autore fin dai giorni del college. Sapevo che avrei avuto tutto da guadagnare e niente da perdere mollando quel lavoro che non sopportavo più. Quello che mi premeva non era tanto far quattrini, quanto vivere pienamente. A farla breve, ero arrivato sulla sponda del mio rubicone personale, a quel passo inevitabile per tutti i giovani alle soglie della vita. Così, presi una decisione. E quella decisione cambiò completamente il corso della mia esistenza. Mi rese la vita felice e ricca al di là delle più rose e speranze. L'avrei piantata di fare il venditore. Visto che avevo passato quattro anni a studiare allo State Teachers College a Warnesburg, nel Missouri, avrei fatto l'insegnante in qualche scuola serale per adulti. Così, durante il giorno, sarei stato libero di leggere, preparare le lezioni e scrivere romanzi o racconti. Volevo scrivere per vivere e vivere per scrivere. Quali materie avrei potuto insegnare? Bastava dare un'occhiata obiettiva agli anni passati per constatare che la cosa che mi era stata più utile era senz'altro l'abitudine e la pratica di parlare in pubblico. Molto più utile di tutto il resto che avevo imparato a scuola. Perché? Perché avevo superato la mia timidezza e mancanza di sicurezza nel trattare con la gente. Mi aveva dato il coraggio necessario nel rapporto con gli altri e mi aveva insegnato che la leadership di solito è monopolio di chi non ha paura di alzarsi in piedi e far valere le proprie ragioni. Feci domanda per insegnare queste cose sia alla Columbia University, sia alla New York University, ma entrambi gli istituti pensarono bene di poter tirare avanti anche senza la mia collaborazione. Io ci rimasi malissimo, ma adesso ringrazio Dio di non essere stato assunto. Ciò mi permise di cominciare a insegnare alle serali della YMCA, Young Men's Christian Association, dove era giocoforza arrivare a risultati concreti e nel più breve tempo possibile. Fu una sfida di quelle. Quella gente adulta non veniva certo ai miei corsi perché inseguiva un diploma o del prestigio sociale. La molla era una sola. Volevano risolvere i loro problemi. Volevano imparare ad alzarsi in piedi nel bel mezzo di una riunione di lavoro e dire qualcosa senza svenire dal terrore. I venditori volevano riuscire ad affrontare un cliente caparbio senza bisogno di far prima a due o tre volte il giro dell'isolato per prendere coraggio. Volevano acquisire sicurezza di sé. Volevano riuscire bene negli affari. Volevano guadagnare di più. E siccome pagavano a rate e smettevano immediatamente di pagare se non vedevano risultati concreti e io non prendevo un fisso ma una percentuale sugli utili, va da sé che dovevo per forza essere pratico e sbrigativo se volevo tirare alla fine del mese senza digiunare. Allora mi sembrava di navigare in acque difficili ma adesso mi rendo conto che stavo imparando una lezione preziosa. Dovevo motivare i miei studenti. Dovevo aiutarli a risolvere i loro problemi. Dovevo rendere la lezione così interessante da indurli a tornare la volta dopo. Era un lavoro appassionante. Mi piaceva. Ero stupito di constatare con quanta rapidità quella gente che lavorava acquisisse sicurezza e con quanta rapidità molti di loro ottenessero promozioni e aumenti. I corsi avevano un successo che non mi ero mai lontanamente sognato di sperare. In capo a pochi mesi l'YMCA, che all'inizio si era rifiutata di pagarmi 5 dollari per sera, me ne dava 30 sulla base della percentuale pattuita. Cominciai insegnando soltanto l'arte di parlare in pubblico, ma col passare del tempo mi resi conto che i miei studenti adulti avevano anche bisogno di imparare l'arte di trattare gli altri e farseli amici. Siccome non esisteva un libro di testo adatto, ne scrissi uno io. A dire la verità, non lo scrissi nel senso tradizionale del termine, ma trovò a poco a poco dentro di me. Scaturì dalle esperienze degli studenti dei miei corsi. Lo intitolai Come trattare gli altri e farseli amici. Visto che lo avevo scritto come libro di testo per i miei corsi, non mi era passato nemmeno per l'anticamera del cervello che potesse diventare un best-seller. Credo di essere l'autore più stupito che ci sia al mondo del successo di una sua opera. Col passare degli anni mi resi conto che uno dei più grossi problemi della gente adulta erano le preoccupazioni e lo stress che ne derivava. Quasi tutti i miei allievi lavoravano, dirigenti, venditori, tecnici, contabili, una campionatura di tutta la società. E la maggior parte di loro aveva un mucchio di problemi. Ai corsi c'erano anche molte donne, donne che lavoravano fuori casa e anche casalinghe. Anche loro avevano problemi. Fu subito evidente che quello che mi serviva era un libro di testo sul sistema per smettere di preoccuparsi e vincere lo stress e mi misi in caccia. Setacciai la più grande biblioteca pubblica di New York all'incrocio tra la quinta e la quarantaduesima e con mia grande sorpresa trovai soltanto 22 opere in catalogo sotto la voce Preoccupazioni. Sotto la voce Preominide, invece, ne trovai 189. Roba da non credere. Dato che lo stress è uno dei più gravi e diffusi problemi dell'umanità, sembrerebbe logico che tutte le scuole di questo mondo, a qualunque livello, abbiano corsi qualificati sul tema come vincere lo stress e vivere meglio. Eppure non ho mai sentito parlare nemmeno di un singolo corso del genere in una qualunque scuola del mondo. Non c'è da stupirsi che David Seabury commentasse nel suo libro How to Worry Successfully, siamo capaci di far tesoro dell'esperienza più o meno come un tarlo è capace di danzare sulle punte. Qual è il risultato? Più della metà dei posti letto negli ospedali sono occupati da gente affetta da disturbi nervosi. Consultai attentamente i 22 volumi disposti sugli scaffali polverosi della biblioteca di New York. In più, acquistai anche tutte le opere disponibili sul mercato che trattassero in qualche modo dell'argomento, ma non ce n'era nemmeno una adatta al mio scopo. Così, presi la decisione di scriverla io. Il lavoro di preparazione durò la bellezza di sette anni. Lessi quanto i filosofi di tutte le epoche della storia avevano scritto sull'argomento. Lessi anche centinaia di biografie, da Confucio a Churchill. Intervistai dozzine di personalità eminenti in ogni campo. Da Jack Dempsey al generale Omar Bradley, dal generale Mark Clark a Henry Ford, a Eleanor Roosevelt a Dorothy Dix. E fu solo l'inizio. Feci qualcosa di molto più importante di tutte le interviste e le approfondite letture. Per cinque anni operai sul vivo, nei nostri corsi per adulti. A quanto mi risulta, si tratta del primo esperimento del genere al mondo. Il nostro compito consisteva nel dare agli allievi un certo numero di regole da applicare nella vita di tutti i giorni. Gli allievi raccontavano poi, in classe, quali erano i risultati conseguiti. Altri riferivano su metodi da loro già usati in precedenza. Credo che non esista uomo al mondo che abbia assistito a un maggior numero di conversazioni sul tema come vincere lo stress. Come se ciò non bastasse, un'infinità di altri discorsi che mi erano stati mandati dattilo scritti. Erano il meglio che fosse uscito dai nostri 170 corsi sparsi per tutta l'America e in Canada. Nessuno potrà accusarmi di aver scritto questo libro rinchiuso nella mia irraggiungibile torre d'avorio. E non si tratta affatto di una disquisizione accademica sulle pene del vivere. Al contrario, ho cercato di scrivere una relazione documentata e concisa sui metodi adottati da migliaia di persone per vincere lo stress. Una cosa è certa, questo è un manuale pratico e ognuno può trovarvi quel che fa per lui. La scienza, scriveva Valéry, è una raccolta di ricette fortunate. Il mio libro non è altro che questo. Una raccolta di ricette fortunate sperimentate con successo per vincere le preoccupazioni. Un ultimo avvertimento. Non ci troverete niente di nuovo. Si tratta per lo più di concetti risaputi, che però nessuno applica. Né voi né io abbiamo bisogno di imparare niente di nuovo. Sappiamo abbastanza cose da poter condurre un'esistenza perfetta. Abbiamo letto tutti la regola aurea e il discorso della montagna. Il problema non è la nostra ignoranza, ma la nostra inazione. Lo scopo che quest'opera si prefigge è di spolverare, illustrare e mettere nella giusta luce un gruppo di antiche, fondamentali verità e spronarvi a metterle in pratica. Lo so, non avete preso questo libro per sapere com'è stato scritto. Vi preme venire al sodo. Avanti, quindi. Ma innanzitutto studiate le prime due parti di questo libro. Se arrivati alla fine della seconda parte vi rendete conto di non aver ottenuto nessun risultato, buttatelo via. Questo libro non fa per voi. Dale Carnegie Caro ascoltatore, iscriviti al nostro canale per non perdere i nuovi video. Nove consigli per ottenere il meglio da questo libro. 1. Per ottenere il miglior risultato possibile da questo libro occorre un requisito indispensabile senza il quale nessuna regola o tecnica potrà risultare davvero utile. Se vi manca, nemmeno mille regole su come procedere nello studio potrebbero esservi d'aiuto. Se invece ce l'avete, farete faville anche senza alcun suggerimento. E qual è questo magico requisito? Eccolo. Profondo, autentico desiderio di imparare. Una ferma volontà di vincere lo stress e vivere meglio. Come arrivare a questo? Tenendo sempre ben presente che questi principi sono della massima importanza, rendendovi conto che vi potranno aiutare a condurre una vita più intensa, più felice, più ricca. Ripetetevi continuamente. La mia pace della mente, la mia felicità, la mia salute e forse anche il mio reddito a lungo termine dipendono in gran parte dall'acquisizione delle vecchie, palesi, eterne verità insegnate in questo libro. Due. Prima di tutto, ascoltate ogni singolo capitolo rapidamente per farvi un'idea generale. Anche se vi viene voglia di cominciare il capitolo seguente, non fatelo, a meno che non ascoltate per distrarvi e basta. Se invece ascoltate con lo scopo di imparare a smettere di preoccuparvi e cominciare a vivere, allora tornate indietro e riascoltate ogni capitolo attentamente. Vedrete che alla lunga questo metodo vi farà risparmiare tempo e vi darà ottimi risultati. 3. Soffermatevi frequentemente nel corso dell'ascolto a riflettere su quanto avete appena ascoltato. Domandatevi in che modo potreste mettere in pratica questo o quel suggerimento. Questo sistema di ascolto vi sarà molto più utile che correre verso la fine al razzo neanche foste un levriero all'inseguimento di un coniglio. 4. Quando ascoltate, tenete a portata di mano una penna o una matita. Quando trovate un suggerimento che pensate vi potrà servire, prendete un appunto. Queste annotazioni stimoleranno la memoria visiva. 5. Conosco una donna che è direttrice di una compagnia assicurativa da 15 anni. Ogni mese questa donna si rilegge tutti i contratti stipulati dalla sua compagnia negli ultimi 30 giorni. E sono sempre grossomodo gli stessi contratti standard da anni. E allora perché li legge? Perché l'esperienza le ha insegnato che questo è l'unico sistema per avere sempre presenti perfettamente clausole e condizioni. Mi ci sono voluti due anni per scrivere un libro che insegnasse come parlare in pubblico e ancora adesso spesso lo devo riprendere in mano per rinfrescarmi la memoria. È incredibile la rapidità con la quale riusciamo a dimenticare. Quindi se volete trarre un beneficio davvero durevole da questo libro non illudetevi che basti dargli un ascolto veloce una sola volta. Dopo il primo ascolto bisognerà che dedichiate ogni mese qualche ora del vostro tempo a riascoltarlo. Non dimenticate mai che in voi esistono enormi possibilità di miglioramento. Ricordate che l'uso dei principi qui elencati diventa abituale e automatico solo con l'aiuto di una vivace autocritica e una costante applicazione. Non c'è altro modo. 6. Bernard Shaw una volta disse «Se insegnate qualcosa a uno non imparerà mai». E aveva ragione. L'apprendimento è un processo attivo. Solo facendo si impara. Quindi se volete approfondire e perfezionare i principi spiegati in questo libro applicateli in ogni occasione. Altrimenti finirete per dimenticarli in fretta. Solo le conoscenze delle quali si fa uso costante si fissano nel nostro cervello. A volte troverete qualche difficoltà ad applicare questi suggerimenti. Perfino io che ho scritto questo libro ogni tanto faccio fatica ad attenermi alle regole che vi ho esposto. Così quando ascoltate questo audiolibro ricordatevi che non state semplicemente acquisendo informazioni. state tentando di acquisire nuovi comportamenti. Sì state assaggiando un nuovo sistema di vita. Occorrerà quindi del tempo perseveranza e applicazione costante. Riascoltate quindi spesso questo libro. Consideratelo un manuale pratico su come vincere le preoccupazioni e quando vi trovate davanti qualche grosso problema non agitatevi. Non seguite l'impulso. di solito è sbagliato. Fate riferimento invece a questo libro e riascoltate o rileggete i paragrafi che avete segnato. Poi provate ad applicare questi nuovi comportamenti. Faranno meraviglie per voi. Sette chiedete a vostra moglie a vostro figlio al vostro collega di farvi pagare una multa simbolica ogni volta che vi coglie in procinto di violare una regola del libro. Vi fermeranno. 8. Per favore andate alla parte ottava di questo libro e ascoltatevi di come H.P. Howell, banchieri di Wall Street e Benjamin Franklin ovviavano ai loro errori. Perché non usare anche voi lo stesso sistema di Franklin e di Howell per controllare l'efficacia dell'applicazione dei principi esposti in questo libro? Otterrete due risultati Primo inizierete un processo educativo di inestimabile valore Secondo scoprirete che la vostra capacità di vincere lo stress e vivere meglio crescerà e si allargerà come la chioma di un giovane all'oro 9. Tenete nota accuratamente dei vostri successi nell'applicazione di questi principi Segnate nomi dati risultati Troverete ispirazione per sforzi sempre più ambiziosi e tra qualche anno la vostra lista di progressi sarà una lettura affascinante Riassumendo 9 consigli per ottenere il meglio da questo libro Principio 1 Sviluppate in voi un forte desiderio di conoscere a fondo i principi dell'arte di smettere di preoccuparsi Principio 2 Ascoltate ogni capitolo due volte prima di passare al successivo Principio 3 Mentre ascoltate riflettete in quale modo mettere in pratica questo o quel suggerimento Principio 4 Segnate ogni idea importante Principio 5 Date una ripassata al libro ogni mese Principio 6 Applicate questi principi in ogni occasione Utilizzate questo libro come un manuale pratico per risolvere i problemi quotidiani Principio 7 Inducete i vostri amici a farvi rilevare il vostro comportamento ogni volta che vi coglieranno a violare una regola del libro Il gioco si farà sempre più interessante e coinvolgente Principio 8 Ogni settimana fate il punto dei progressi compiuti Ripensate agli errori commessi ai miglioramenti alle lezioni ricevute delle quali far tesoro in futuro Principio 9 Tenete nota su un quaderno di come quando e con quale risultato avete applicato queste regole Parte prima Cose da sapere in materia di preoccupazioni Capitolo 1 Vivere in compartimenti stagni di 24 ore Nella primavera del 1871 un giovanotto aprì un libro e lesse 26 parole che dovevano influenzare in modo decisivo il corso della sua vita Studente di medicina al Montreal General Hospital era angustiato dall'idea degli esami che doveva superare preoccupato sul che cosa fare dove andare come formarsi una clientela in che modo sbarcare il lunario Le 26 parole che il giovane studente di medicina lesse nel 1871 lo aiutarono a diventare il medico più importante della sua generazione Organizzò la celebre John Hopkins School of Medicine ottenne il titolo di Regius Professor of Medicine a Oxford l'onore più ambito per un medico inglese Il re d'Inghilterra lo nominò Baronetto Alla sua morte due poderosi volumi di oltre 700 pagine ciascuno furono scritti per raccontare la storia della sua vita Si trattava di Sir William Osler Ecco le 26 parole che gli capitò di leggere nella primavera del 1871 parole di Thomas Carlyle che l'aiutarono a tenersi lontano dalle preoccupazioni Il nostro compito principale non è di vedere quel che si profila indistinto al lontano orizzonte ma di fare quel che abbiamo a portata di mano 42 anni dopo in una tiepida serata di primavera coi tulipani che fiorivano in cortile Sir William Osler si rivolgeva agli studenti della Yale University raccontò in quell'occasione che di un uomo come lui che aveva insegnato in quattro università e aveva scritto un libro notissimo si supponeva dovesse avere un cervello fuori del comune dichiarò che non era vero disse che i suoi amici intimi sapevano benissimo che la sua era un'intelligenza normale e media Qual era stato il segreto del suo successo? Assicurò che doveva unicamente a quello che chiamava vivere in compartimenti stagni di 24 ore Cosa intendeva dire in realtà? Alcuni mesi prima di tenere quel discorso a Yale Sir William Osler aveva attraversato l'oceano su un grande transatlantico sul quale il comandante stando sul ponte poteva schiacciando un bottone isolare automaticamente le varie parti della nave le une dalle altre chiuderle cioè in tanti compartimenti stagni grazie per aver ascoltato l'inizio dell'audiolibro puoi trovare la versione completa cliccando il link sotto il video grazie per aver guardato